E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo tutte e due queste squadre qui 5000 like, ok? Udinesi e romanisti, arrivateci, ok? Tanto siete anche due tifoserie amiche, mi gasa sempre questo gemellaggio così esiziale, un po' nonsense, però mi gasa Quindi dateci dentro con i like in nome di questo gemellaggio qui, guardatevi tutti i video fatti, commenti alle parte, calciomercato che vi ho lasciato prima Vi lascio anche in descrizione il link di fan ratings per andare a dare i voti ai giocatori di questa partita e fatelo tutti quanti, mi raccomando Allora, Udinese-Roma 1-1, signori, che rigorello, che Roma di rigorello, eh? Roma di rigorello, veramente, con la mano a minchia moscia C'era una mano lì rimpallato a minchia moscia, una manina a minchia moscia e gli ha dato il rigore, dai, cioè, onestamente, visto che Murigno si lamenta sempre degli arbitraggi, coser, complotto, ce l'hanno con noi e via Ma che rigorello è, dai, rigorello sapori, signori, essere onesti, rigorello sapori Comunque, a parte questo, a parte questo, ho visto una ottima Udinese per praticamente tre quarti di partita E una Roma abbastanza sgonfia, una Roma male oggi, penso una delle, a livello di gioco, a livello di lucidità, a livello di proposte, anche di scelte Una delle peggiori Rome di quest'anno, quest'oggi Probabilmente un po' per la stanchezza degli impegni ravvicinati Ma anche un po' secondo me per tutto il pregresso che ci si porta dietro Squadra che fa una fatica terribile a fare gioco, a costruirlo L'emblema di questo è il commento pre-gara in cui si dice oggi la Roma dovrà fare la partita Per tre quarti di gara la partita l'ha fatta e anche ottimamente l'Udinese Che è una squadra che io ovviamente seguo e in genere non è una squadra che fa la partita Anche se nelle ultime gare con Cioffi si è notata una crescita di livello da sto punto di vista Però diciamo che oggi la Roma praticamente è stata capace di andare a Udine e farsi giocare addosso Perché per gran parte della partita, eccettuato poi il decorso del secondo tempo con gioco spezzettato Roma che cercava di recuperare, ma è successo questo Specialmente il primo tempo, Roma negativa, scelte anche lì piuttosto criticabili Una su tutte il discorso di Zaleschi, ennesimo giovane alla Fena Gian che Murigno deve mettere dentro Perché deve far capire che la gente che ha è scarsa Quindi lui fa giocare in primavera con il rischio di bruciarli Perché questi ti fanno una o due gare buone fin tanto che dura l'abbrivio dell'entusiasmo E poi finiscono travolti dai ritmi, dalla tattica e dall'esperienza che serve per giocare in Serie A E questa è una scelta simbile Lo stesso modulo, vi ripeto, continuo a convincermi assolutamente poco Non ho capito perché stai perdendo contro l'Udinese E al posto di tenere Abram in campo con Shomurodo, sostituisci Shomurodo con... Tieni Abram in campo, no? A meno che non fosse indisponibile Non lo so che stesse male, però ecco Roma che non mi è piaciuta per pressoché totale assenza di idee di gioco Siamo ragazzi, mancano nove giornate alla fine del campionato La Roma sembra ancora un cantiere aperto dal punto di vista del gioco, dell'identità di squadra Dello stesso schema dei giocatori Non si vede una cosa finalizzata Le ultime due partite sembravano, almeno dal punto di vista dell'approccio, del saper cosa fare, un po' meglio Ma è anche vero che hai giocato contro uno Spezia abbastanza derelito E però contro l'Atalanta si era visto qualcosa Oggi sei ripiombato nelle Rome che abbiamo visto Presta, Striscia contro Atalanta e Spezia Una Roma veramente in difficoltà Stile cantiere aperto, con scelte discutibili Stanchezza, poca lucidità Reparti che non dialogano Incapacità a velocizzare la manovra Lentezza totale anche negli schemi e nelle idee di gioco E quindi la Roma oggi non mi è piaciuta assolutamente Devo dire una Roma che non mi è piaciuta Continuo a dire anche lì Prova almeno quando sei in svantaggio Prova l'albero di Natale Che è lo schema perfetto per questa squadra Niente, sempre con la difesa a tre Poi provi le difese a due quando stai perdendo Spesso vedo idee poche ma confuse L'Udinese io ho degli applausi da fare per l'Udinese Perché l'Udinese vista nel primo tempo è forse la migliore Udinese della stagione Complice anche a una Roma che non ha fatto niente Però un Udinese ragazzi parliamo di Molina Ma questo ho trovato io cos'è Molina È un mix tra Chiesa e Nico Gonzales volto all'efficacia È un esterno clamoroso della Madonna E ho sottovalutato anch'io l'importanza di Pereira in questa squadra Ma un'Udinese calbiana Il primo tempo calbismo Calbismo e qualità Calbismo e qualità Calbismo e qualità Calbismo e qualità L'asse Pereira Molina Deulofeu Ma fare calcio signori Fare calcio Fare calcio E anche Iaiolo Quando ho visto che Cioffi faceva giocare Iaiolo Ho detto ma perché non metti Arslan al posto suo Invece Iaiolo ha fatto un'ottima partita Nel suo contesto ha fatto un'ottima partita Poi purtroppo si è fatto male Un altro ottimo giocatore come Neuen Perez È entrato Zegela E ha fatto un po' la cappellina Sebbene vi ripeto Quel rigorello a minchia floscia lì Allora se lo davano alla Roma In casa della Roma C'era Murigno Che praticamente si smutandava E si metteva a battere il cazzo Sulle casse dell'acqua Per fare scenate E dire che lo avevano derubati C'erano i tifosi della Roma Che lanciavano le torce Nello stadio Però vabbè Comunque in ogni caso Zegeler Ecco lì devo fare una piccola tiratella D'orecchi A Cioffi Due gliene faccio anzi Perché hai fatto entrare Zegeler E non Nuitink Posto che un po' sta male E via dicendo E i cambi un po' ritardati Perché uno come Sopì Per esempio L'avrei fatto entrare prima E anche Samarzic Avete visto Che quando è entrato in campo È entrato subito bene Con un tiro bellissimo Con Rui Patricio Che fa un miracolo La difesa Signori Accettuato Zegeler Veramente top Don Pablo Marie Io dico solo una cosa Don Pablo Marie Che ci vedrei bene alla Roma Anche tra l'altro Se non ci fosse Murigno Don Pablo Marie L'Alessio Stigliano Del medio corso Dell'Isonz Tantissimi Il Patron Perez Stesso Ottima partita Becao Becao È il Chiellini 2.0 Quel Chiellini Di metà carriera Tantissima roba Ma oggi anche Mack'n'Go Il Koji Sembrava il Kantè Del medio Isonzo Veramente un Udinese Da applausi Peccato un po' Il calo nel secondo tempo Non corroborato Da dei cambi Fatti magari Un pelo prima Ma per atteggiamento Approccio E anche bellezza Delle trame di gioco Viste nei primi 45-55 minuti Solo applausi Roma Diversi passi indietro Roma Diversi passi indietro Allora andiamo con i voti Silvestri Voto 6 Per me incolpevole Sui gol E non particolarmente Protagonista Rodrigo Becao Dal 6 al 7 Don Pablo Marie Dal 6 al 7 Neu and Perez 6 e mezzo Molina Dal 6 al 7 Pereira 6 e mezzo Anche se sarebbe Però stiamo un po' Più calmi su di lui Iaialo 6 e mezzo Makengo Voto 6 Più Anche se si è mangiato Qualche gol Udo G Voto 6 Beto 6 Utile a far salire la squadra Tenere palloni Ma spesso un po' Impreciso Deulofeu 6 e mezzo Perché Deulofeu Il ritratto dell'udinese Di oggi Gran primo tempo Grande qualità Belle trame Bell'ambiente Poi un po' Si affievolisce E si spegne Andando avanti Nel tempo Zegelar Voto dal 5 al 6 Pussetto Voto 6 Più Samarzic Voto 6 Più Allora andiamo invece adesso con la Roma Andiamo con i voti della Roma Signori Allora Rui Patricio 6 e mezzo Perché ha salvato la partita in diverse occasioni Specialmente nel finale Mancini Voto 6 Meno Smalling Voto 6 Ibanez Dal 5 Al 6 Carsdorp Dal 5 Al 6 Oliveira Dal 5 Al 6 Cristante Dal 5 Al 6 Pellegrini Uno dei pochi positivi e salvabili secondo me della Roma 6 Più Zaleschi Gli diamo 5 e mezzo con molta bontà perché è giovane ma bisognerebbe darlo al suo allenatore questo voto perché facendo così ripeto rischi di bruciare dei giovani per fare le sceneggiate e dire che hai gente scarsa quando non è vero la Roma è un'ottima squadra dovrebbe avere un'identità di gioco che gliela deve dare l'allenatore non i primavera nella quale valorizzare gli elementi a disposizione Zaniolo inguardabile 5 Abram 5 e mezzo Carles Perez Voto 6 Shomurodo Voto 6 Meno Veretù Voto 6 Afenajan Voto 6 Piu El Sharawi Voto 6 Piu Voto agli allenatori Allora Cioffi Cioffi 6 e mezzo 6 e mezzo perché ho visto veramente per spirito, impegno, concentrazione e anche qualità per 50-60 minuti una grandissima Udinese Voto a Murigno dal 5 al 6 Ditemi cosa ne pensate e un caro saluto